Tu sai quanto è difficile avere una talpa nella banca del Giappone? Neanche la Yakuza ce l'hai, sai perché? Perché sono dei selvaggi. Non si trova mai una penna in questo ufficio. Urlavano tutti. Io mi sono confusa, ho cliccato sul tasto acquista al posto del tasto vendi. Poco prima che la banca del Giappone non dasse il mercato con lo yen ai minimi storici. Ok. Ok. No, 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 no. Ti ho scritto il nome, valla a trovare, è il migliore chirurgo plastico di New York, potrai scegliere il naso che desideri, il tuo agio naso, quello di Audrey Hepburn, Beyoncé, Barbara Streisand, quello che preferisci. È appena arrivato l'aereo, devo andare. Janet, niente più sorpresa, va bene?